Cosa vi avete promesso, cosa vi avete messo in canta a questo pagliasso e buffone, buffone, pagliasso, non è neanche il coraggio di affrontare il cittadino che in precedenza ci ha appoggiato, ma che cosa c'è che vuoi? Non mi toccate, no, mi sono calma, io sono malato di cuore, io sono malato di cuore, non mi pensavo, non mi pensavo, non mi pensavo. Ma il cuore è vita, il cuore ci ha raggiunto, noi l'abbiamo portata davanti, non gli altri, noi, noi, i ragazzi me l'abbiamo portata davanti, dobbiamo lavorare, ci sono altri andiamo, tocchiamo. Avete ragione, ma noi se perdiamo il lavoro, a noi che ci cambiano, non teniamo paese, siamo tutti umani, a quattro ore fascisti, non abbiamo un lavoro che andiamo a trovare agli altri. Grazie a noi stanno dentro di là e noi stiamo perdendo il posto di lavoro con tre bambini a casa, tre bambini a casa abbiamo portato, noi di qua non ci muoviamo oggi, non ci muoviamo. Grazie a noi stanno perdendo il posto di lavoro con tre bambini a casa, tre bambini. Grazie a noi stanno perdendo il posto di lavoro con tre bambini a casa, 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 tre bambini a casa. Grazie a noi stanno perdendo il posto di lavoro con tre bambini a casa, tre bambini a casa, tre bambini a casa, tre bambini a casa, tre bambini a casa. Grazie a noi stanno perdendo il posto di lavoro con tre bambini a casa, 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 tre bambini a casa. Ma qua, 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 qua. Mi rilassate che non è questa la cosa che mi stanno dicendo. Come mi hanno sempre usato in postia? Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Grazie.